No! Vente cichità! Vente a te la fiammuta! Vai! Che niente di quello che era Che niente di quello che era altro Sono ricco No! No! bello che spesso è tua lei bello che io la mia che è la mia la mia di che è la mia l'araccio è la mia il mio figlio chi è vero? 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 siente che questa noche veniremo a parlare con no santa mano grazie grazie per te dar quando fuero a Halloween? il suo? o fuero a Halloween? no no ah ok se vuoi stia grabando se vuoi? venganse 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 oi asi te gusto? wow 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 Grazie a tutti. Ese regalo? Para ti? No, no lo merezco. ¿Por qué me das un regalo? Porque te amo. Estas casada? Si. Pues no me amas mucho, no me amas. O sea, me amas pero estás con él ni piensas en mí. Ese perla. Muchísimo. ¿Lo puedo abrir? Si. ¿Cómo te llamo? Perla. Wow. Ese nombre, ¿sabes lo que significa el nombre? No. Significa paz. Digamos. Ya va ya. Paz, paz. O sea, te atocas. Gracias, por favor. A ver, ven. Ayúdeme. Sí. A ver, ayúdeme. Abrilo, por favor. No. 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 No, no me gustó. Este color está. A ver, ¿qué es donde queda? ¿Está más black, Juan? Para toda la gente que pensaba que estaba gordo, no estoy gordo. Doy bien algo. Bueno. Vamos, ya. Guau. Yo sé ir. Que la suya. Que la suya. Gracias, Sandra. Yuriana, por las estrellas. Y gracias a todos por compartir también y estar aquí en Archivo Digital. Gracias, Sandra. ¿Dónde está mi esposo? Pero es como están casadas. Ay, no es normal. ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde queda mi esposo de esta hermosura? ¿Dónde, güey? ¿Dale? ¿Te mata la mano? Hija, ¿segura? ¿No andas tomada? No. ¿Dónde está mi esposo de esta hermosa? Ok, ok. No es de la hermosa porque le gusta bastante el juguado a mí, nuestra hermosa mujer. Felicidades al que la chufo a mi goado de la hermosa mujer. ¡Gracias! ¡Oh, qué hermosa! Gracias, hermosa. Ahora sí, prepárese. Prepárese. Yo sé que aquí dices tú. ¿Ves que ella va a ganar porque está la tonta? ¿Esta porque está bien buena? No. Aquí puede ser tú. La lucha que la puede ganar. Tú o tú. O tú lo puede ganar. Aquí. 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 Sì, mentre vanno a casa, più grande vanno a fare. Già gannate, già gannate. E che sopporte le sopporte. E la che sopporte, dice. La che sopporte, però la silla, è soltanto. La che sopporte, è la che sopporto, chico. Vanno a fare una cosa. Les voy a invitarlo con una, va a presentar a usted, mija, con un estradito. De mi necesitas, escuchen la canción, vaina como te den un chingada gana, saca tus mierdos, eh, lucente, ponte guapa, sexy, que se vea que aquí, que se vea que aquí, dios. Sì, dìmeme, dìmeme allí, a qué huele. Echete al fondo, huele pescado. Cómo sabes que el pito huele pescado, si estás muy chiquita en tu niña. ¿Cuántos años tienes? 18. Cómo sabes que huele pescado. No. ¿A poco ya? No. Eh... 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 Prepárense. Recuerden. Que el escándalo... Es un buche de un pego que queda raro. Recuerden que el escándalo y el apoyo le da más energía y le da más vibra a los muchachos, ¿ok? Recuerden que prepárense. Mandad bien, no me no es. Prepárense. La primera. ¡El aplausoo! ¡No! 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 questo è un po' questo è un po' è un po' che è un po' il helicoptero il helicoptero il helicoptero è un po' è un po' è un po' pesadino che che il palazone è molto bene che qui mi rovina guarda la sua aperta guarda la sua guarda la sua guarda la sua che le fai guarda andata guarda 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 Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Eltretanto a tutti gli eri? No. No, è uguale che io. La sattina. L'imagine non è il quadro. No, no. Non si si. Non si si. Cosa a tutti i eri? Echate me acerciati. Dania Banta. Eh? Dania Banta. Dess. Ai? 10? Vizio, io che ci amai un uomo, però non thought. no no ok non darei o non puoi si eee eee teni o con experiencia e a volta 10 50 eee 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 no que le quedan 50 minutos de vida el segundo no ese cabrón tiene que con piedad se lo tiene 40 y que no parece 40 y que 33 y como quiere que sea ese hombre que vieja tu vida porque sea bueno no mas de que porque sea bueno no mas bueno si feo bueno porque sea bueno no mas que este bueno no 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 Sì l'età? Però ti dice che? Principio? Che pedo? Misi? 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 A ver... Dìmelo con le parole M-I-S-D-I-H-I-N Mi le mando mamà che non manè Ese pinche nombri non existe Nada più Canto per paesi Micaela Misi? Misi? E' un'unico cien E' unico cien C'è 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 unico cien che è bonito mi amor Accendieri Accendieri Periologià Pedologià W existe C'è unico? E' studio? Pedologià C'è unico cien maestro 약간... maestra maestros la maestra la maestra de arriba queole champion bug bug gu为什么 quegra reb st Come ti pare, mi pare, mi pare, mi pare, mi pare, mi pare, mi pare. Capri, mi pare, mi pare, mi pare. Perchè non mi pare, tu torri o? Come ti gusta? Calle. Come, come. Come, come ci sale bene? Come, come. Come, come. Ma che tali? Mi porto bene, la cala, la comunione Cosa te chiamas? Oh, il amore Te chiamas Goku Goku Però tu mamma da pelo Se crea garujo Que bonito amore Un aplauso maravilloso La siguiente La siguiente El apoyo Y los palos E' 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 con una roba, me imagino che è la pina in la gran canciona a che ti dedicati? a studiante tecnico a studiante tecnico a che studiante? criminologia criminologia uuuh oh no in quei trae a che epo sts? del duxista in quei trovai uuuuh valla e che sts a quei? no ueuh di schuaret Echamese il gol Il Stanford è stata la università Nooo A poco? Nooo No me acuerdo di avermi un pollo di ostacolo Per la università o di hotel Per il ostacolo 16 e 4 Come si chiamano i ostacoli? La O. La O. Ah Ah Los pusiste Desde que te divorciaste Ah Gracias a esta viega Bien mucha querida Gracias a que tu esposo Dice un cien Pusiste tacos por la otra Ah Fue por otro taquero Ah por otro taquero Ah Tenia convenio Se peleava la familia De quitarse el lodo De quitarse el lodo De quitarse el lodo O esta otra A huevo Que muy lindo O como tenemos con los hombres? Con dinero y los pibos Traes puros sueños Si Vamos a ver si vienes Prepárense Aire Ah Toc 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 Buongiorno a tutti. 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 Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. 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 i non non con gli uomini ecco mica ecco ended colpina feliz del decente con un dia o un dia si o un dia no ah, è casato es casato es casato ok, te vi a questa parte del romper agles el recurso R.H. con fenomenal e il trazo 2 come che come che è qui è la maraderia 8 8 8 8 ok, va a fare la prossima lo che segue 2 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 16 17 18 20 il dono vieni ne lo canto in questo mi ha fatto in vuelta il dono bastante vieni 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 non è che la tua state e le doi vieni 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 Algo più che vuoi aggiungere a tuo telefono? No, no, non, non. No, non. Tengo tutto ciò che ti 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 ti. Tu sentimento. Di casa prima di casa, tu me ti... Ma che tutto. Che ti 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 ti? Ma tenera. Ma tenera! Con il lavoro che hai, io ti 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 ti. Ma alle dalla mia casa. Il suo pollo E' un rancho allà A te vieno E' a un cliente E' a un cliente Allà, a un cliente E' a un cliente E' a un cliente Despacito Il cliente E' a un cliente E' a un cliente Allà E' a un cliente Oh no, de que pueblo Ah, de Tuscala Pertenece a ¿Me oyes a mi? No Ah, vienes de Jalisco Ay, mija, es que el evento no va a ser a Marcolina Y a un cliente E' a un cliente No es de Marajara Ah, de que el técnico de Marajara Marajara es de Tuscala ¿Cuántos euros son? No No, de Inecia ¿Aquí es de Marajara? No 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 Il pubblico è gritarlo! Grazie a tutti. 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 no esistema bueno diciamo no esistema bueno tengo unas papas no tengo no feria detrasamos a los hijos de que? detrasamos a los hijos ah 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 si tengo los suels para llegar y tableras nooo no me acuerdo muy bien de este oso bueno tienes que buscarte el día de hoy un marano como tiene que ser? con dinero que me saqué? que mas que mas? ya padre este no 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 ok muy bien ah donde vive? tabachines diga no creo que el patio de dinero debiera parar en tabachines mejor visita la en el horno mejor no Sì 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 You I Sì 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 si la fai, cachò, la damos! le vamos visitar, le haplo un entorno e me la damos no, eh no wey, la damos todas ah como se ve que no tiene experiencia dirà ah ah respora hambre don't you ah quero che pones pestañas C'era! C'era! C'era anche le mie c'era! C'era me c'era! C'era me c'era! Viene? La ponteca... Deve! этот! ... ... Da me eh oniona dal frromì eh! Viene qui!! ... No, Alex. No, Alex. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 E tu? Però tu a partir de hoy puoi andare con lo che te escuche Tu vas a subir a rinca vato? No Ah ok Mañana Calla che pescino un freddo Vamo a tomare un po' un po' No, sono un po' di qui! Sono un po' di qui! È un po' di camera! Ok! Ok! Perché viene del vanter? Passeni pa'llà! Te cuido il celular, chiquita! Venga a dire, e vuoi sapere qu'è chi era? Si mi comadre è Montserrat o mi comadre la Sabrosa. A partir di oggi, vas a prendere il tuo feste e le vas a prendere la Sabrosa di Conima. E... ... per lavorare... ... per lavorare... ... per lavorare... ... per lavorare! Adesso un'atticgebung! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti